Un'altra battaglia attende il Cesena. Contro il Novara sono in palio non solo punti salvezza dopo quegli importantissimi raccolti a Perugia a metà settimana, ma anche la voglia di continuare in una crescita esponenziale di tattica e gioco. Il Novara è una squadra che rispettiamo molto perché ha dei valori importanti, però l'affronteremo con lo spirito giusto e l'atteggiamento giusto. Dal canto suo il Novara è la squadra che ha vinto di più lontano dalle Muramiche e vanta la terza miglior difesa del torneo, considerando i suoi 16 punti in graduatoria, 5 in più dei bianconieri, penultimi in Serie B. Sono statistiche ma non me ne frega niente, nel senso, anche noi abbiamo perso sempre in modo a 2-3 con la Perugia, quelli che devono dire, perché Perugia ci è sempre perso e noi vinciamo. Il passato non è, come posso dire, garanzia per il futuro o per il presente, non baso né la squadra né il lavoro né le regole sull'avversario, mai. Ma non perché gli snop, non mi capita male, io sostengo che la squadra deve avere un'identità, deve avere una fisionomia, che deve essere valida per affrontare qualsiasi tipo di modulo dell'avversario e qualsiasi tipo di partita, se è in casa o senza sferta. Quindi la squadra deve fare le cose che deve fare lei.